Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo agli aggiornamenti su fortnite che non vanno eseguiti quindi su epic games in questo caso può essere un problema di epic games nelle impostazioni può essere anche che nelle impostazioni ci sia così gestisce velocità download attivo quindi in questo caso prova così a disattivarlo e vedere se riesce a fare l'aggiornamento su fortnite se non dovesse funzionare chiudiamo un attimo epic games vai direttamente nella cartella appdata quindi scrivi qua sopra esegui qua dentro vai a scrivere %appdata% quindi il % lo devi fare con il tasto shift più 5 e fai il % qua fai ok fai appdata local una volta entrati così nella cartella appdata local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di fortnite game cancelli la cartella di fortnite game e cancelli anche la cartella di epic games prima di cancellare vi dico solamente che dovete rifare l'accesso quindi in questo caso dovete solamente fare il login basta solo il login quindi devi fare di nuovo accedi al tuo account epic games cancelli epic games e cancelli epic games launcher e svudi il cestino una volta fatto prima di avviare epic games vai su servizi va sopra vai a scrivere servizi scendi fino a giù fino a trovare così il servizio di epic games online quindi epic online service tipo di avvio metti manuale stato del servizio arrestato e faccio avvio basta e faccio applica e chiudo qua ora non mi resta che avviare epic games e fare il login sul mio account faccio così il login sul mio account ed ecco epic games nella libreria se non dovesse bastare tre puntini gestisci e fai la verifica al gioco se no disinstalla e reinstalla il gioco per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao